Ciao a tutti ragazzi io sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Oggi in questo velocissimo video vi faccio vedere gli ultimi acquisti che abbiamo fatto dal nostro negozio sponsor Gioco Libriera Semola Ovviamente tutti quanti acquisti per quanto riguarda l'ambiente Warhammer appunto Prodotti della Games Workshop di cui siamo fan e fanatici a livello di collezionisti, modellismo, pittura Ma soprattutto gioco da ormai una vita Io e mia moglie e anche il nostro amico e collaboratore Pippo Gianrico siamo strafissati di queste cose E questo è l'ultimo ordine che abbiamo fatto appunto dal nostro negozio sponsor Gioco Libriera Semola Che trovate sempre poi come primo link in descrizione di tutti i video Ve ne parlo a breve dopo la sigla Negli ultimi acquisti ora non vi sto a fare tutta quanta la lista completa Però qui davanti abbiamo ordinato un po' di colori perché lo sapete mia moglie A parte dipingere per farci video e soprattutto per passione dipinge anche per lavoro Infatti come vedete qui nella nota video ma tanto lo trovate sempre in descrizione Sulla sua pagina Facebook che poi è la pagina del suo shop Electra 3D Print di cui vedete qui accanto il logo Si fanno stampe 3D ad altissima qualità sia in plastica che in resina Con anche servizio di pittura compreso Quindi sono tutte quante cose che sia per hobby che per passione che per lavoro Ovviamente il fatto della pittura è una cosa in più Non è compresa né prezzo eh Metto subito le mani avanti Quindi abbiamo preso un po' di colori qui davanti Che comprendono un po' di shade Un po' di base Un po' di layer Ma tanto poi saranno tutte cose che vedrete Qui passo la palla a mia moglie Vedete direttamente nei suoi video di pittura Perché io lì sono veramente un asino e una capra Poi abbiamo preso una scatola della legione di Nagash Perché siamo innamorati A parte di Warcry Che come gioco ci piace veramente da morire E siamo soprattutto innamorati dei Night Taunt Dei fantasmi Però ci piacciono anche A parte ci piace tutto della GV Cioè fra pochino riesco a farmi piacere anche i Tau Che mi sono sempre messo di tangola per vomitare Però da quanto sono belle le nuove miniature Forse mi piaceranno anche quelli Comunque abbiamo scelto perché mia moglie Come una delle bande che si vuole fare di Warcry A parte che le vogliamo tutte A parte per le streghe di Kane Le piacciono anche appunto la legione di Nagash E quindi abbiamo preso una scatola base Una banda per Warcry Poi qui la Greenwatch Per il mio amico Gianrico Perché stiamo iniziando E porteremo diversi video sul canale Comprensivi anche e soprattutto di gameplay di partite E di Battle Report Stiamo iniziando a portare Warhammer Underwards Perché è un titolo Non so se si vede qui accanto Ma qui ci sono tutte le scatole È un titolo che ci piace veramente tanto Ed è il titolo forse su cui la GV punta anche maggiormente Come gioco wargame di schermaglie Molto veloce ma soprattutto da competizione e da torneo Quindi è il classico gioco che un po' con le leggi ovviamente anti-covid È un po' il gioco che sta portando Portava e si spera che riporterà anche Ma durerà sicuramente Sicuramente molto più della pandemia Porterà la gente nei negozi Quindi è quello che invoglia anche il giocatore A prendere la sua armata La banda Perché anche lì si parla di banda Andare a negozi a giocare Quindi la Greenwatch è un altro step Perché anche qui le vogliamo assolutamente tutte E il mio amico Gianrico Fanatico da sempre di creature cattive Vabbè cattive Un cermale bene Un warhammer Però gli piace sempre quella parte tipo Quella del caos Corn Forse non morti non tantissimo Più che altro demoni Ha detto Sai che c'è per non provare sempre il caos Stavolta mi provo delle specie di goal Cannibali Qualcosa del genere E ha scelto la Greenwatch E poi qui accanto Ho visto che Per tutti i giochi che trattiamo sul canale Ora Kill Team È una cosa un po' particolare Perché Kill Team non ci sono i set base Di Kill Team vi dovete comprare Voi le miniature spaiate Del 40.000 E ci fate un Kill Team Secondo me prima o poi faranno anche le scatole Però di Necromunda Underworlds Warcry E forse anche di qualcos'altro Ci piacerebbe farci la collezione Tutte le bande In uscita Soprattutto Dicevo di Warcry E quindi mia moglie Veramente Che poi questo ordine qui Praticamente l'ho fatto Per tutti Forse per me Perché c'è mezza roba sua Mezza livell'altro Comunque Il prossimo sarà Mio Mia moglie Ha voluto Le piacevano a morire Le Esker La banda Delle Esker Praticamente la famiglia Che lo sapete Necromunda è divisa In varie casate Che si danno alla guerra In questa città Formicaio Dispersa Chissà dove Nei meandri oscuri Dell'Imperium E ha voluto Le Esker Come sua banda Come tattica Come tattica Come storia Se lo volete provare Tra l'altro Le protagoniste Sono loro Le Esker Quindi ragazzi Ho fatto questo video Veloce Per farvi un po' Vedere Cosa abbiamo ordinato Dal nostro sito sponsor E vi ricordo Se volete ordinare Questa roba Ma qualsiasi cosa Colori Espansioni Comunque scatole Delle bande Giochi da tavolo Giochi di società Anche old school Oppure semplicemente Wargame Pennelli E quant'altro Dal nostro sito E negozio sponsor Gioco Libria Semola Che vedete in soviimpressione E primo link In descrizione Al miglior prezzo Sul mercato E vi ricordo Di utilizzare sempre Il nostro codice Discount Coridan7 Per avere uno sconto Del 7% Se Quando ordinate Qualcosa È finito Perché magari Aspettano il restock O non c'è proprio In lista Quindi in ogni caso Scrivete al supporto A Corrado Che è il proprietario Del negozio E fateli presente Che arrivate dal canale Di Coridan Perché se un prodotto Non è presente O è finito Lui farà il possibile Comunque per farvela avere Anche lì usate lo sconto E per spese superiore A 79 euro Ci sono anche Le spese postali Con Corriere Comprese In 48 ore Ordinate Nel giro di 2-3 giorni Ci avete Il pacco a casa Quindi Io ringrazio ancora una volta La gioco libreria simola Abbiamo fatto questo acquisto E ne faremo Molti altri ancora Viva la GV Viva Warhammer E tutto quello Che ci ruota intorno Ovviamente Ciao ragazzi Alla prossima Grazie a tutti